ciao buongiorno ragazzi la spettacolo sta città manco riesce a legge che c'è sta qua se legge niente oggi siamo in zona con gli albani per fare cosa continuare la serie dedicata alle migliori pizzette romane avete gradito particolarmente il primo episodio sono troppo felice perché è un alimento che ho particolarmente a cuore da sempre regata quando sono piccola andavo a scuola e mi prendevo le mie pizzettine unte rosse non diamoci limiti quindi cercherò di testare pizzette rosse morbide o scrocchiarelle mi piacciono tutte e due mi piacciono più quelle croccanti come già sai come hai visto nel primo episodio l'unico dubbio che mi viene in mente che sarà complesso trovare qualcosa all'altezza del forno provato nel primo episodio te lo lascio qui se vuoi recuperarlo il livello era alto di media nel video ma c'era quel forno che se vieni a roma vai lì vai in quella zona solo per provare quelle pizzette fidate massimo supporto ovviamente oggi faremo altre tappe segnalate anche da voi in passato come vi avevo chiesto su instagram ho segnato tutto a regà apprezzate perché girare questi video in pieno luglio a roma è una grande fatica è bello perché parto sto video tutta bella fresca a fine struccata tutta colata con i capellini qua sudati io direi che ci possiamo avviare sto venendo bello caldo è una cosa assurda perché sto sudando come un chi è qual è un animale che suda e vai a sci di casa e trova uno sprazzo di ombre e vai a fare la spesa vai a fare la spesa è un casino perché vai a fare la spesa col caldo l'altra volta sono andata alle due mi stavo sciogliendo ed è proprio per questo motivo che ho deciso di optare per un'alternativa un'alternativa che ormai te posso dire ci sto a prendere pure un po la mano è tornato hello fresh di cosa si tratta l'abbiamo già visto in passato infatti mi sto facendo un po prendere la mano servizio di abbonamento settimanale mensile che ti permette di farti arrivare la spesa dosata per evitare sprechi alimentari in base alle due esigenze questa volta faccio una ricetta che rientri nel mio ho bisogno calorico giornaliero e quindi ho scelto il pollo alla paprika con il cimiciurri perché ha il couscous e nella dieta ho il couscous io vai sul sito scegli le ricette che fanno più al caso tuo la quantità di persone che andranno a consumare il piatto procedi con l'ordine parti in vacanze io non ce sto metto in pausa l'abbonamento perché posso sta a casa fa ma arriva la spesa lo riattivi quando torni dalle vacanze non riesco mai a rinunciare alle ricette con a base un po di piagnettino se non è cipolla e aglio mi sento come se stessi facendo un allenamento di bicipiti che bello poi capito non devi pensare uscite metti l'accomodo di far arrivare la spesa e l'aria condiziona da palla perché sennò devi schiumare quanto è bello massaggiare il pollo ho bisogno di proteine nella mia vita fornitori locali italiani sto pollo sai da dove arriva io un altro po di cimiciurri ce lo aggiungo dietetico ti lascio in descrizione un codice sconto esclusivo giulia 50 se vuoi fare una prova eventualmente disdire mettere in pausa il servizio io intanto se te posso di me vado a fa un giro che qua tocca continuare a mangiare le pizzette raga dopo aver cucinato una ricetta al fresco io direi che possiamo provare con cuore di grano in realtà non è la prima volta per me perché è un forno che ho frequentato in passato quando ero solita bazzicare questa zona via menghini io mi ricordo in particolar modo qui un'ottima pizza marinara bella unta di quelle col parsemolino e l'aglio però oggi siamo di pizzetta vediamo cosa troviamo un po' d'ombra raga entro dentro ho visto la mia amata pizza marinara c'avevano pure il tramezzinello fritto non so se tu ricordi il tramezzinello fritto che hai visto nel video di un tipo molto losco che a detta di molti è un criminale questa è una segnalazione tosto a di perché ho visto stalla quindi questi col tramezzino fritto e ammolano gli vendono i tramezzini fritti pizzetta sfogna pizzetta scrocchiarina non scrocchiarella scrocchiarina croccantina e pizzettina bianca croccantina anche questa volta ho speso un euro e sessanta anzi vede qua dove deve cambiare inchiostro a la macchinetta di scontini rega che si sta a vedere posso dire non le sento molto croccanti infatti sembrano un po vecchiotte vedi un po un po gommosietta qua forse qui c'è un minimo di croccantezza assaggiamo peccato però o vecchia peccato perché il gusto del pomodoro buono mi piace perché non è troppo ma giusto la parte quella un po più alta giornatina no perché questo è un forno che ho frequentato in passato e quantomeno sempre beccato delle pizzette croccanti molto saporite molto buone stavolta sarà il periodo rega tra l'altro sono arrivato ad un orario che non è orario 10 giù sei andata tardi no sono le 10 e 38 martedì 11 luglio 32 gradi di minima massima 36 gradi ti prego lasciami il tuo supporto sotto questo se devo ancora arrivare all'orario della massima passiamo a quelle sfogliatine queste sono le tipiche pizzettine da festa di compleanno che quando sei piccolo proprio devi fare il carico di umare 3 kg di pizzette grazie che si devono attaccare bene al palato molto bene ma beh ovviamente sono altre tipologie le pizzette sfoglia c'hanno lo strutto sono molto più pesanti infatti generalmente pure i vegani insomagnano perché lo strutto insomma non è proprio una cosa propriamente vegana cottura la storia perfetta bella uniforme guarda i buchettini sotto sono state bucane non è scontato saperle fare bene le pizzette sfogliate però ci siamo molto buone ultima questa volta non ho trovato altri condimenti ho visto delle pizzette bianche con le olive solito discorso live denocciolate di barattolo evito sempre di prendere le pizzette con le olive perché rega usano sempre le olive quelle industriali a me non piacciono mi rovinano anche il gusto dell'impasto quindi pizzette scrocchiarelle bianche pizzette grissino grissinello da bagna di pompa te ne avrei preferite se fossero state un po più basse se te posso diso troppo altre peste così scrocchiarelle quindi se ne mandi giù un po dei liquidi non scendono potete andare meglio ti posso dire una cosa secondo me sono capitata nella giornata sbagliata però giudico quello che mangio e questa cosa non è non è una roba buona da vendere ci spostiamo al prossimo sto cercando di godere di questo poco vento che c'è ragazzi ragazzi la situazione si fa molto delicata siamo sull'appia nuova per la seconda tappa franchise questa volta 14 sedi a roma più dei 10 sono andata a vedere sul sito in realtà parliamo di un franchise che ho già avuto modo di testare in passato perché avevo una sede in zona mia che poi ha chiuso ne ricordo abbastanza buone queste pizzette rosse entro vedo cosa trovo vediamo se stavolta non sono dei ieri magari M Becheri Becheri M mi sa che hanno cambiato nome io mi ricordo che si chiamava Becheri M e ora mi sa che si chiama M Becheri è stato un periodo della mia vita che prendevo ero solita prendere la metro B a roma e i treni vecchi da metro B senza sede roma devi capire che so tutti un po' vecchi hanno l'aria condizionata che non funziona quindi io mi nascondevo il ventilatorino cinese dentro lo zaino la gente si rivedeva questa qua che da sotto gli arrivava sto vento un po' poetico però raga io sudo come so cosa quindi ho bisogno un attimo di salvaguardarmi se no mi sciolgo entro dentro un sacco di scelta stavolta pizzette sfoglia pizzette croccanti pizzette morbide pizzette condite in maniera differente solito discorso non ci limitiamo proviamo quello che mi attira un po' di più a livello di aspetto ma raga oggi tutti i posti che c'hanno a inchiostro dello scontrino da cambiare ah raga 3,20 euro però cambiatelo l'inchiostro ragazzuoli potrebbe essere una nuova moda pizzette morbide e panose queste sono molto morbide guarda che bellina che è come la chiappa di un neonato partiamo da queste poi guardiamo anche le scrocchiarelle che non sembrano affatto male la prima cosa che posso notare è che c'è il pomodoro devi essere fortunato devi mangiare così ha la forma molto simile a quella di una vulva quindi non è diciamo logisticamente non è pensata proprio bene ma potevi fare sviluppata orizzontalmente non verticalmente perché qua mi mangia la parte vuota qua mi mangia il sugo qua mi mangia il pane qua mi mangia il sugo qua mi mangia un po' dietro il decottura sì un pochettino sì ma si vede credo sia percepibile anche un po' ad occhio un po' crudino come il sugo peccato perché l'impasto è molto buono anche la lievitazione mi piace molto per essere un franchise comunque anche un pochettino insipido pizzetta croccantina già vedi pizzetta romana croccante resta bella dritta e se vede che ne è vecchia cottura ce stiamo vediamo il sugo molto molto buona il sugo già meglio allora non mi fa particolarmente impazzire nel senso che come ti ho già detto in passato nello scorso episodio preferisco una pizzetta questo è un gusto personale un pochettino più arida a livello di sugo qui rispetto a quella prima già è un po' più cotto perché non si è creata una conchetta che tende a lasciare il sugo un po' più crudo però è ben equilibrato il gusto ci sta me ne ricordavo bene è molto buono nella prova il fatto che sia continuando a mangiarla pizzetta sfollina un po' più bassa di quella di prima cottura ci siamo molto bene sto cercando di percepire quanto mi si attacca al palato queste io le giudico anche in base a quanto mi si attaccano al palato che è direttamente proporzionale al quantitativo di strutto che inseriscono dentro le pizzette sfogliate le preferisco più alte piuttosto che basse queste sono troppo bassette un pochettino molli poco friabili meglio quelle dell'altro se te posso dire oh per chiudere con questo forno ho detto non ci precludiamo niente proviamone una morbida questa volta con il prosciutto cotto mi ha detto il mozzarella ovviamente si è affreddata la mozzarella si è un po' calcificata assaggiamo perché ovviamente ero un po' cattica se prenderla o meno perché quando ti prendi la pizza col prosciutto cotto ti utilizzano tutti la spalla per andare a risparmi oh regà oh vedi c'è questo è proprio la parte meno costosa del cotto lo dico un miliardo di volte tutta grassa guarda che bruttina che è non c'ha senso per me oh se spostiamo alla terza ah regà mi sto a fare una parte al sole solo perché ho visto una cosa che vi volevo far vedere prima di prendere la macchina e spostarci al prossimo posto ho detto no non può restare lì lo devo mostrare come da tradizione quando lo incontro per strada ma quello è il merio oh questo è proprio carinello merio ti posso dire? devo tornare alla macchina ah regà finora livello nettamente più basso rispetto al primo episodio che era un po' la mia paura che ho detto lo volete un secondo episodio? tutti belli fomentati pure io però in parte ero anche un po' cosciente del fatto che raggiungere determinati livelli sarebbe stato quasi impossibile specialmente per quanto riguarda il forno in zona tortre test che abbiamo provato nel primo video vediamo se col terzo magari mi dice meglio c'è l'aria condizionata accesa e nonostante tutto ventilatorino a franchinè ma quindi fa sto video dei pizzette te che sei capito il king dei pizzette te sta divertire te sta divertire fanno 35 gradi a torre lo sai che questo ventilatorino l'ho acquistato a Porta Portese qualche anno fa ed è la svolta perché tu lo puoi mettere in tasca in questa paniera non apprezza ma perché lui non apprezza le piccole cose le piccole gioie sempre così con le sopracciglia aggrottate dovresti ma stiamo con l'aria condizionata a macchina ma che me rappresenta quello c'è l'aria condizionata a stecca ma tu la metti davanti non la fai uscita il bocchetto di davanti la fai uscita no 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 se no mi pian colpo è meglio così perché poi il vento e allora che cosa è una scelta logistica è logistica è logistica è follia perché regà posso aprire una piccola parentesi e la menti di una cosa che poi non vuoi è follia no perché la vorrei ma in piccole dosi quindi dato che tu la metti che parte dalla parte del certo c'è il cane di dietro se no non gli arriva esatto se no non gli arriva proprio sulla base di questa cosa io sfruttando il ventilatorino pagato 3 euro posso insomma vivermela meglio essere un po' più appagata e non avere il colpo capito sul collo che domani mi sveglio tutta storta è quello ma regà andate al mare tu che puoi puoi non lo so andate al mare se non puoi e stai lavorando ti mando un abbraccio di supporto tieni duro che arriva sempre poi il momento per staccare la spina o lo dico a te lo dico pure a me ma perché lo youtube era un lavoro quanto pare sì lavoro che richiede tempo impegno anche se non si direbbe organizzazione spostamenti soldi tutto in regola pagare le tasse niente ferie liberi professionisti è un lavoro ragazzuoli se non ricordo male qui questa ragazzi è la tangenziale est guarda che bello pensa a vivere qua che sfigati qui vicino se non erro se non ricordo male franchinè forse mi ricordo che era addirittura pure giallo ma quello è il merio ah merio un pesciolone un po' sa ti posso dire che sarebbe molto carinello vedi che era giallo guarda che memoria che ho come conosco bene questa città il problema non è il merio quello che tu ti ricordi non ti ricordi me lo strilli ogni volta dentro l'orecchio lo so fa parte del gioco regà mi fa dettagliare ma il quale gioco del gioco ma chi l'ha detto ma chi lo vuole ma chi lo vuole supportiamoci vicendevolmente franchinè supportiamoci franchinè ti posso dire una cosa c'è una qualche ultima pizzetta che ho mangiato che mi ha lasciato un po' di acidità in bocca no bueno io sono rimasto un po' del stucco sul primo forno quindi i die di dieci l'ho messo anche nella top 3 dei forni i die di dieci per il tramezzino però se fossi capitato oggi avessi trovato quelle pizzette no no erano male male non le puoi vendere più che altro la roba che vi rimane no ma poi vedi la della dalbano cioè o me la metti sull'applicazione di recupero contro gli sprechi alimentari che vabbè dici mi dai un pacco di roba la butteresti me la fai pagare talmente tanto poco che ci può stare però quelle pizzette erano vecchie erano di ieri erano di gomma hai visto le ho piegate lo sfizio non solo pane a me tanto il pane non mi serve entro vedo se ce l'hanno un paio di pizzette e se le maniamo in qualche angolo di ombra pizzette sfoglia e pizzette di quelle panosine non quelle basse e croccantine sono pure quelle con le olive soli da storia non le prendo né di calcolo neanche per me non esistono ma io direi che ci possiamo spostare anche qua che c'è la desolazione di Smaug dio santo un po' degradata sta piazza guarda che schifo guarda che schifo c'è una roba assurda vieni a Roma in estate poi ci stanno ogni tanto dei romani che se lamentano che me lamento da sporcizia regà mi posso lamentare una condizione che vivo quotidianamente ogni giorno in una città che si presenta così totalmente lasciata andare in primis trattata male dagli stessi abitanti con questo meraviglioso sottofondo qualcuno sta a fare un po' dei lavorini ti dico che ho speso un euro e 80 partiamo da quelle un pochettino più alte che non mi dispiacciono dorate bene mi sembra anche abbastanza uniforme come cottura l'unica cosa che noto è che sono molto 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 unte sotto non so se rende invidio facciamo probabilmente lo vedete quindi ha assorbito parecchio olio che è un po' un'arma a doppio taglio non mi piace quando sono particolarmente unte abbiamo già visto in passato pizze estremamente croccanti e letteralmente asciutte a livello di tatto assaggiamo sento anche un odore di olio prorompente infatti sento molto l'olio un po' troppo unte al palato un olio che non è neanche un buon olio peccato perché a livello di cottura ci siamo anche la lievitazione è un buon compromesso tra quelle basse e croccanti e quelle morbide perché fuori sono molto croccantine però purtroppo non mi piace molto sentirmi in bocca questo olio sono rimaste un po' crude qua e non mi venia di guarda quello è il pomodoro che bagna ti assicuro che sono rimaste un pochettino crude non sono pizze che riprenderei di certo passiamo a le pizze delle feste che mi pare che ci siano belle uniformi una bella cottura buone meglio decisamente molto meglio vedi che bella sfoglia che hanno qua un po' più alto un po' più basso ma non è un problema il pomodoro bello asciutto friabile croccantino molto bene per queste le altre dimenticabili ci spostiamo all'ultima tappa che dici così posso torno a casa sono in chiavità adacciata andaro qua per ora stiamo a fasto d'urco a pandinello grazie al franchinello e alla Jumola guarda inquadra la Jumola in tutto il suo spazio Jumola Amorina si ti facciamo bere a tutte le fontanelle presenti in questa città è finita vai tranquilla il cane più simpatico del mondo buona buona sembra cattiva se la vedi da lontano poi ti avvicini e c'ha gli occhi da cucciolona è troppo carinata se la incontri per strada Jumola diglielo perché lei è felice se glielo dici ultima tappa fatti di farina torpignattaro ormai c'è bazzico spesso in questa zona abbiamo visto un sacco dei kebabari nell'episodio degli Istanbul kebab tra l'altro una sede qui e un'altra 50 metri più avanti dove sono gli ombrelloni neri proviamo regà preso molto fornito questo forno avevano delle pizze molto interessanti innumerevoli quantità di pizzette croccanti preso un po' di assaggi differenti pagando un bel po' di roba in realtà 1,60 euro un cavolo pochissimo tra l'altro hanno in realtà più sedi non solo l'altra che vi stavo dicendo prima ma anche un altro paio una sulla tuscolana e un'altra altrove ti direi che partiamo dalla pizza speciale perché qui io chapeau io non so com'è la vostra pizza fatta di farina però menzione speciale a fatti di farina perché c'è la pizza croccantina al gusto cipolla ragazzi cipolla sì ti prego ti prego sì fallo tutti i giorni della tua vita sempre regalami riempimi di pizza alla cipolla giù in Puglia mangiavo certe focacce con la cipolla di quelle che ti dico fermi e qua stavolta croccantina con la cipolla la cottura sembra che ci sia avete un po' di rosmarino cipolla rossa dei capellini proprio guarda quanto è sottilina un po' bruciacchiata ai lati avvicina la bocca senti già quell'odore quanto è buona la cipolla croccantezza perfetta una cipolla falsa ancora di più l'asticella su una pizza che già sopravvive benissimo così nuda e cruda madonna regà la cipolla è troppo buona già posso a me dispiace questa cosa che la pizza con la cipolla sappiano solo gli anziani c'è stata una signora davanti a me che si stava a prendere la pizza prima di me si stava a prendere tutte le pizze con la cipolla la focaccia con la cipolla questa è una grande amante da cipolla io volevo pure stringere la mano io volevo dire signor io vorrei essere come te all'età di 80 anni arzilla intelligente con tanta voglia di riempire l'alito di cipolla invece no capito i giovani vanno sempre sulla margheritina e piate la cipolla non ci avete paura non temete di conquistare delle donne con l'alito di cipolla fresco buono insieme cioè condividiamola questa cosa nel senso che se ti puzza solo a te di cipolla e devi baciare la persona no però capito condividiamo anche lo stesso cibo mangiamo entrambi i cipolla e poi non ci si pensa più buona buona vera ho preso anche la bianca croccante per farti capire il discorso che testavo a di prima cioè al primo forno che abbiamo visto era molto alta un po' invece vedi come deve essere secondo me quando è croccante bianca sottile deve essere sottilissima un foglio di carta che scende comunque più facilmente rispetto a quella di prima che era troppo alta è troppo secca di conseguenza come da tradizione prendiamo anche una alta io queste chiamo le pizzette panose per me sono le panose piena di pomodoro manco troppo cottura pare che ci sta no non mi piace se sono dimenticata totalmente il sale non sa di niente non sa proprio di nulla anche il pomodoro non sa di niente poteva essere cotta meglio aromatizzazione inesistente l'impasto non particolarmente rievitato non mi piace questa non mi piace proprio proviamo con la scrocchiarina guarda che bella a me mi piace perché guarda c'ha una forma indefinita non è tonda non è oblunga bislunga pare nagasa questa c'ha qualche ora anche come cottura qua risulta commosina e se la tiro vedi è molto commosa qua un po' più croccante la pizzetta croccantina questa cosa non la deve fare questo questo effetto onda pomodoro molto arido però per me non è necessariamente un lato negativo perché mi piace molto poco pomodorosa la pizzetta scrocchiarella però questa non meglio con la casipolla cigoria guarda questa come già c'ha più carattere peperoncino aromi bella chiara senza mozzarella che diventa calcestruzzo cucinato sopra buono piccante il giusto un leggero sentore di aglio come deve essere la cigoria ripassata in padella bene sul cucinato questi bravi si conclude qui questo secondo e ultimo episodio del tour di pizzette romane è andato di certo peggio del primo ma perché nel primo ho sfruttato tutte le cartucce che avevo in canna queste sarebbero state comunque le seconde scelte per quanto mi riguarda in ogni caso vostre segnalazioni come vi avevo chiesto nel primo video anzi vi ringrazio per la partecipazione si sta creando una bella community mi piace questo condividere questa voglia anche di esplorare insieme nuovi posti lasciami il tuo supporto sotto questo video perché ragazzi girare i video a Roma diventa sempre più tutto un po' appiccicadiccio capito? fa caldo si suda poi le pizzette stavolta manco mandava troppo di mangiare perché fa caldo capito? la prossima volta vado a piangere lato no? devo tornare qua stiamo sulla casilina mamma mia che panico questa zona non puoi capire? ci passano i drammi qua non c'è via di scampo i cosi qua i cucaracias insetti che te cascano sulla testa i graffiti e via mamma mia che caldo 36 gradi all'ombra no? a regà quando vedo una cucaracia mi torna in mente l'episodio dei due fantagenitori te poi capi perché sei dei otto generazioni fa però chi è chi sta guardando questo video magari il mio coetaneo lo potrebbe pure capire quello in cui hai capito i scarafaggi sono talmente tanto intelligenti che conquistano il mondo te lo ricordi? un canzone di grande spessore se te lo ricordi lasciami un commentino con scritto scarafaggino